oscar 2023 meglio conosciuto come l'anno della nostalgia ad hollywood e sì perché se voi guardate bene i film che stanno in lizza non per numero di candidature ma in generale i film prevalenti sono the fabelmans che è un film diciamo autoreferenziale perché autobiografico di spielberg ma anche top gun che è un remake o comunque diciamo molto basato su un grande successo degli anni 80 i film su elvis e marylyn morrow anche loro sono personaggi degli anni 50 e 60 babylon il film di brad pitt e margot robbie che parla degli degli anni in cui c'è stato il passaggio al sonoro nel cinema ad hollywood una grande rivoluzione che ha avuto meno candidature del previsto e anche meno in casi del previsto ma comunque parla diciamo di 100 anni fa avatar stesso è vero che il secondo capitolo di una saga che sarà fatta formata da 4 5 episodi ma comunque si basa su un successo già avuto già ottenuto di 10 anni fa anche le pupille di alice rorvacher il corto che è candidato agli oscar è molto nostalgico è girato in pellicola super 16 e 35 mm praticamente è totalmente analogico e anche la storia ha un'ambientazione nel passato quindi insomma è come se hollywood e anche la stessa academy stesse alla ricerca della propria anima riandando a cercare la propria grandezza superando quello che è stato l'ultimo l'ultimo periodo in cui si è parlato più di politica di politically correct di cancel culture oppure di fatti come quello del famoso schiaffone dello scorso anno insomma tutto ciò che è collaterale invece di dei film di quello che dovrebbe essere la terra dei sogni ecco speriamo che qualcosa di nuovo e che veramente possa far tornare a galoppare l'immaginazione di quella parte del mondo sia di ispirazione anche per noi o forse che qualcosa di nuovo venga proprio dall'italia chi lo sa state comodi grazie grazie